music 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 for a while shall all your cares be kind shall all your cares be kind sono Paola Quagliata e ho un progetto che si chiama Jazz in a Rumble Rock in cui canto musica barocca arrangiata in jazz e suonata da musicisti jazz music 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 io vengo dalla musica classica ma avendo dei fratelli più grandi di me che mi hanno fatto ascoltare generi musicali di qualunque sorta, da Johnny Mitchell agli XTC, ho avuto la possibilità di approdare anche alla musica jazz intorno ai 16 anni e me ne sono innamorata. Lavorando con dei musicisti barocchi eccezionali, ho avuto davvero la possibilità di notare quante attinenze ci siano fra la musica jazz e la musica barocca, perché a volte Monteverdi davvero è swing. Il musicista barocco suona ciò che non è scritto e il musicista jazz fa esattamente la stessa cosa, come diceva Miles Davis, play what's not there. Perché New York? Perché è il jazz, perché ho avuto la fortuna di conoscere un batterista straordinario che si chiama Rudy Royston, il quale si è appassionato alla mia idea e ha deciso di partecipare al progetto. Grazie a tutti. Grazie a Rudy Royston ho quindi potuto conoscere un pianista eccezionale come Bruce Both e quindi la collaborazione si è allargata. C'è stato un lavoro di ricerca intenso, non tutta la musica barocca può essere arrangiata in jazz. Qualche volta trovo un brano, lo provo e proprio no, non c'è niente da fare, non ci sta. Invece a volte un brano barocco è già jazz, quindi bisogna cambiare pochissimo. Quello che a me interessa è mantenere un atteggiamento di estrema umiltà e rispetto verso entrambi i generi. Jazz in a Run Baroque è un progetto che piace trasversalmente. Dall'amante della musica barocca, il filologo, il jazzista puro. A me piace moltissimo vedere le reazioni del pubblico durante i concerti e soprattutto mi piace ascoltare i feedback. Quello che vorrei, spero, si senta ascoltandolo, è che risulti spontaneo, che risulti fare assieme musica celebrando un concetto di abbattimento di barriere spaziali e temporali. L'amante della musica per la musica, il charlie di abbattimento di barriere spaziali e temporali. Grazie.